attenzione ragazzi attenzione perché anche quando l'abbiamo parlato nella nottata di ieri quindi questa mattina non sembrava così vicino non sembrava un'operazione che potesse essere considerata così vicino alla conclusione e invece ne stanno parlando in tanti ne stanno parlando in tanti e sembra che il mercato del napoli si possa smuovere ancora di più nelle prossime ore con la cessione di victor osimen ragazzi devo andare necessariamente a leggere questa notizia del mattino molti diranno è mai il mattino ragazzi il mattino molto spesso tende ad anticipare delle notizie sul napoli alcune che si concretizzano alcune no perché molte fonti del mattino sono molte molto vicine alla società sportiva calcio napoli fatemi prima salutare polo hermanito sono gia 7 benvenuto in questo nuovo video in cui parliamo di calcio mercato parliamo di voci di mercato e parliamo di victor osimen parliamo di romen lukaku ma parliamo principalmente della questione relativa ad osimen perché la situazione sembra essere molto vicina tra l'altro ha parlato anche fabrizio romano e sappiamo che quando parla fabrizio romano si tratta ragazzi di di cassazione direte voi eh ma quello ha dato l'irvigo per questo per quell'altro sì quello veramente veramente sono i due casi in cui la colpa era della società veramente era della l'accordo era fatto comunque sembrava una faccenda che si stava complicando il colpo di scena in serata con il napoli che ha aperto al paris saint germain dopo il contatto diretto tra de laurentis e nasser anche la ifi a meno che non ci sia un altro strappo violento entro poche ore l'operazione andrà in porto e già nelle prossime ore victor osimen partirà per parigi la sua nuova meta ragazzi qua parliamo di una notizia clamorosa cioè questa è una bomba a tutti gli effetti anche perché ragazzi se si tratta di queste cifre qua parliamo di un'operazione che entra nella storia sicuramente del napoli ma anche del calcio europeo perché è un'operazione molto importante è vero adesso vediamo operazioni così quasi all'ordine del giorno ma 130 milioni sono 130 milioni l'affare è quasi concluso i dettagli vanno definiti ma calenda ha ottenuto dai dirigenti di altani l'offerta giusta e il napoli che ha da che ha da tempo già un accordo di massima con l'ala lì e con gli emili del public investment fund per la recessione della sua stella ne ha preso atto il bomber ha una sola preferenza il paris saint germain come ho raccontato tante volte questo lo sappiamo l'abbiamo detto l'abbiamo ridetto simen non vuole lasciare l'europa vuole andare in un club in cui può comunque puntare a vincere qualcosa in cui può sì arricchire il suo conto in banca può rimpinguare il suo conto in banca ma al contempo può rimanere nel calcio che conta perché ragazzi andare in arabia saudita ho considerato il tipo di persona che è victor simen se ho imparato a conoscerlo almeno un po' non penso che lo rappresenti tanto ovviamente non riuscirei a dirgli niente neanche se andasse in arabia saudita parliamo sempre di uno che è diventato uomo a 8 anni che ha dovuto prendere la sua famiglia in mano a 8 anni che ha dovuto lavorare per pochi spicci a 8 anni perché aveva perso entrambi i genitori quindi quando si tratta di victor simen bisogna sempre essere analizzare le cose al completo come stanno come raccontato tante volte de laurentis già a maggio era pronto a chiudere poi lo sgarbo dei parigini che avevano preso contatto con quara che ovviamente il napoli ha detto più e più volte che non ha assolutamente intenzione di cedere e che dovrà rinnovare al più presto gli arabi in ritiro in austria in questi giorni pur avevano una certa fretta a ottenere un sì di osimene e il napoli ha messo spalla al muro osimene se il pari san germen non si muove c'è il riad ecco quello ecco quanto detto da il mattino e continuano la valigia adesso è pronta ieri tra gli indizi anche le tante foto che l'ex capocannoniere da serie a bordo campo ha fatto con i suoi compagni e non solo la scelta di conto di non portarlo neppure in panchina insomma sembra tutto fatto se il napoli l'autorizza come pare a raggiungere parigi tra oggi e domani vuole dire che siamo i titoli di coda di un'avventura che ha regalato all'italia uno dei più forti attaccanti in circolazione verissimo poi in un video dedicato quando sarà parleremo di quanto sarà difficile di quanto è difficile sostituire un calciatore e un uomo come victor osimene uno che da solo ti garantisce competitività uno che ti può vincere le partite da solo uno che ha un'importanza all'interno dello spogliatoio clamorosa uno che ti trasforma qualsiasi pallinoro uno dei pochi centrocampi attaccanti rimasti in circolazione che ti fa reparto da solo perché osimene ti fa reparto da solo e queste sono cose importanti sono cose importantissime questo per quanto riguarda osimene ma poi ripeto ne parleremo con estrema calma questa è un'altra notizia invece di Nicolò Schiele poi andremo su quella di Lukaku il Ren è interessato ad Ostigard però il Napoli in questo momento preferirebbe far uscire un mancino infatti andrei a leggere proprio quanto dichiarato da chiarirlo da chiarirlo Ermoso bisogna far uscire un mancino Ostigard è indipendente uscirà comunque posso fare una petizione in diretta per Juan Jesus? posso? Juan Jesus? ci fai questa cortesia? cioè nel senso di partire di partire immagino non molto corretto secondo me non una bellissima dichiarazione per un giornalista è più facile vada via Nathan che ha più richieste e può giocare e crescere sicuramente sicuramente quello che vi sto dicendo da tempo perché comunque Juan Jesus a livello economico non è che ti porti chissà quale introito perché parliamo di un giocatore di 32 che va per i 33 anni non vorrei dire stupidaggini e che diciamo non viene dalla migliore annata ecco della della storia ecco della sua carriera dopo due anni con Spalletti secondo me ha giocato in maniera non eccellente ma ottima ottima soprattutto per un quarto centrale adesso andiamo a leggere quello che ha detto eccolo qua Fabrizio Romano quindi il Paris Saint Germain sta avanzando sta continuando i contatti con Victor con il diciamo con l'entourage di Victor Ossimène con il loro interesse che si è diventato sempre più concreto Ossimène keen on join PSG and open to the move if they can agree on deal slash fee with Napoli quindi Ossimène è assolutamente disposto ad andare a Paris Saint Germain ed è aperto al trasferimento se si riesce a trovare un accordo slash la cifra giusta con il Napoli he'd be very high on PSG list if one center striker let quindi sarebbe molto in alto nella lista del Paris Saint Germain se dovesse partire un attaccante che probabilmente sarà proprio Colomuani che sembra essere diretto verso l'Atletico Madrid almeno questo era quello che aveva dichiarato il buon Gianluca Di Marzio quindi si devono incastrare delle situazioni però pare che si stia facendo qualcosa addirittura oggi ho letto che non dovrebbero esserci non dovrebbero esserci contropartite tecniche si tratterebbe di un pagamento semplicemente completo della clausola che farebbe tanto piacere al Napoli che potrebbe permettere al Napoli poi di fare investimenti importanti magari a centrocampo un esterno e di poter affondare definitivamente per Mario Hermoso e praticamente completare la squadra e incominciare a lavorare la cosa fondamentale però è ovviamente completarla per poter fare la preparazione atletica e soprattutto avere il prima possibile Romero Lukaku perché se deve arrivare Romero Lukaku deve arrivare subito adesso comunque di regola se non mi sbaglio sta ancora in vacanza quindi non può iniziare ad allenarsi però prima della conclusione delle sue vacanze se sarà Lukaku se dovesse essere Lukaku bisogna concludere questa maledetta operazione perché altrimenti si rischia di arrivare in ritardo fisici come quelli di Lukaku non sono facili da gestire dal punto di vista atletico non è facile per uno come lui tornare al top soprattutto dopo diciamo un'annata particolare e dopo le vacanze perché è uno che tende comunque a mettere peso questa è la situazione al momento ragazzi mi raccomando fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto lasciando un bel mi piace iscrivetevi al canale in descrizione troverete Facebook Instagram Twitter tutto quello che volete sarà lì giù troverete anche G7 Shorts il mio canale pubblico teleclippi momenti conici momenti divertenti del canale TikTok preferiti noi ci vediamo alla prossima volta sempre e comunque tutta la vita forza la prossima volta